Io adesso sto combattendo una battaglia per salvare la fabbrica e i vostri posti di lavoro. Pretende che i tedeschi facciano quello che vuole lui, ma io penso che sia. Quando abbiamo pensato nel 2010, è chiaro che si avvertivano i rumori di un mare mosso inquietante ed era l'inizio di una crisi. Noi non immaginavamo mai che saremmo arrivati, pensavamo che questo film, un giorno potevamo dire, avete visto cosa accadeva nel 2011? Non immaginavamo, certo, che quel mare morto diventasse lo Schumani che attualmente sta facendo questo disastro non solo in Europa. Grazie per la visione!